Siamo a Marina di Ravenna, siamo un centro di recupero da Tartarughe. Ah, proprio di Tartarughe? Questa posta, wow. Sì, quella è la stessa. No, ora sta. Ma da dove arriva? Quindi respira tranquillamente. Bello. Ma ti chiedono la cortesia? Ma a me non mi c'entra più male. A posto. È tutto sotto controllo. E la Tartarughe è salva. Comunque sta bene, no? Ma in fai, in fai, in fai, in fai. Insomma, potrebbe passarcela meglio, direi. Beh, certo. Ma cosa c'è qui? Eh, c'è il sigillo. E' un'altra metallica perché è già passata da un altro ospedale come noi. Ah, ecco. Proprio le piace stare qua. Le piace, evidentemente. Ciao. Il nostro, secondo me, le piacerà di questo, però. Ah, sì? È bello. Hai capito, mamma? Era già targata con una targhetta. Quindi già era uscita questa. Era stata in un'altra struttura. Adesso andrà in un'altra struttura qui a Ravenna. Hai visto, bimbe? L'hanno salvata, l'hanno salvata. Un applauso. Un applauso, mamma. No, abbiamo già fatto tutti l'applauso.